Segni grafici di grande riconoscibilità, colori netti che fanno emergere figure, contrasti decisi che evidenziano forme, ecco la cifra distintiva di questa collettiva microroom. La cura grafica, che contraddistingue le opere di Giuseppe Autiero, Gabi Minedi e Simon Ostan Simone, fa sì che attraverso le opere presentate emergano frammenti di storie, personaggi pronti ad animarsi e a raccontare, oggetti che immediatamente richiamano piccoli eventi, incontri, discorsi, in una sola parola, racconti minimali. Che siano le mani, che si fanno personaggi ed interagiscono di Simon Ostan Simone, che si stagliano neri su fondo bianco, o che siano le forme più o meno stilizzate di Giuseppe Autiero, contraddistinte da colori netti, quasi da segnaletica stradale e dall'alternarsi di spigoli e curve. Piuttosto che gli estravaganti personaggi colorati di Gabi Minedi, con le loro contraddizioni visive, ognuna di queste opere sembra volerci condurre attraverso un'attività di storytelling verso i territori della creatività. Queste opere accennano senza mai dire, incuriosiscono senza esaurire le nostre domande e soprattutto mettono in moto, con un effetto volano, la nostra immaginazione e la nostra fantasia. Nessuno sa dire se ci sia uno scopo in questi personaggi, o se le loro storie abbiano un fine, o piuttosto una fine. Si limitano infatti a suggerircene e a lasciare che sia, compito nostro, inventarcene. Grazie per la visione!